Si procede a grandi passi per la realizzazione all'Aquila del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale. Sono già state individuate le palazzine ed è stata avviata la prima fase dell'intervento con la manutenzione su 100 alloggi a Bazzano, Sant'Elia e Paganica. Sono partiti i lavori nelle aree in cui verranno realizzati, verranno riqualificati gli alloggi per gli studenti e contiamo che in primavera questi 500 posti letto siano già disponibili per poter già avviare la fase con la venuta dei ragazzi del servizio civile. La seconda fase però è quella più complessa e importante che prevede interventi su tutte le aree e la realizzazione del quartier generale a Sant'Antonio. Investe risorse di gran lunga superiori, parliamo di 50 milioni di euro e più. Abbiamo affidato l'attività di sgombro degli edifici che stanno sulle piastre che vanno demolite. Stiamo predisponendo gli atti di gara per poter andare a demolizione di queste prime 11 edifici e poi da lì partiremo con le edificazioni e soprattutto con gli interventi di connessione tra le varie aree del progetto case. L'ufficio speciale per la ricostruzione è soggetto attuatore però anche di altri interventi importanti per la città con risorse del PNRR e non solo. Ci sono figure interne come l'ingegner Michela Marrone, l'architetto Andrea Calzetta, l'ingegner Stefano Ercole e l'archeologa Gabriella Florio che sono gruppo di interventi molto significativi per la città. Abbiamo appaltato i lavori per la riquilificazione di tre cammini e abbiamo appaltato i lavori per la valorizzazione delle mura urbiche che completano un primo intervento realizzato dal segretariato regionale e abbiamo appaltato, era un appalto integrato per cui c'è la progettazione esecutiva e poi ci saranno i lavori, della musealizzazione del castello Cinquecentesco. E di questo devo dire che siamo molto contenti non solo perché ci hanno consentito di accrescere le nostre esperienze e cimentarci appunto su una nuova sfida ma anche perché abbiamo creato una sinergia importante col Comune dell'Aquila appunto e col segretariato regionale dei beni culturali che in qualche maniera è un esempio virtuoso di come le amministrazioni che senza voler primeggiare ma nello spirito della massima collaborazione cercano di fare il bene di questa città. Grazie. Grazie.